Arrivare in ospedale e ricevere le cure adeguate non è cosa semplice se si tratta di un paziente straniero e non si conosce la lingua. Per superare queste barriere nasce il progetto interpreto di mediazione linguistica culturale rivolto ai migranti, un'iniziativa cofinanziata dal Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea, attivata in via sperimentale presso l'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli e che ha permesso di migliorare l'accesso degli stranieri al Servizio Sanitario Nazionale. Gli operatori dell'ospedale Monaldi, del Cotugno e del CTO hanno potuto richiedere in tempo reale, con l'ausilio di un tablet o di un telefono, un supporto linguistico in videochiamata durante le visite ai pazienti stranieri. Il servizio di mediazione a scelta tra inglese, francese, russo, spagnolo, ucraino, portoghese, arabo e albanese è stato garantito dalla cooperativa sociale Communication Center Multilingue. Circa 500 operatori sanitari che hanno utilizzato questa tecnologia, più una serie di nostri mediatori linguistici che sono stati di supporto nell'implementazione del servizio. Il nostro auspicio è quello di poter sperimentare la stessa esperienza anche in altri presidi della nostra città perché ha raggiunto degli ottimi risultati. Ha favorito sicuramente il rapporto fra paziente e medico, favorendo da un punto di vista linguistico ma anche la comprensione non solo delle patologie ma anche delle cure e quindi ha superato anche quelle che possono essere le barriere e le paure di una persona straniera che con tutti i suoi problemi arriva nella nostra città per di più con un problema di salute.